La città metropolitana sta procedendo alla redazione del piano strategico metropolitano in maniera condivisa. Che cosa si aspetta Soma Vesuviana dal piano strategico? Beh, innanzitutto buongiorno. Noi ci aspettiamo, oltre alla condivisione, portare dei progetti importanti affinché la nostra città abbia un vantaggio visibile all'occhio dei nostri concittadini. In che modo l'amministrazione comunale, insieme con i cittadini, ritiene di poter offrire il suo contributo alla redazione del piano? Noi siamo disponibili a un confronto sia tecnico che politico con i rappresentanti della città metropolitana e fornire tutto ciò che hanno bisogno per la redazione di un piano strategico condiviso al 100%. Ci saranno molti progetti, ci sono dei fondi che sono stati sbloccati. I nostri obiettivi principali sono il rifacimento del manto stradale e in alcune strade anche delle fogne. Quindi noi ci impegneremo insieme alla città metropolitana affinché questi progetti vadano a buon fine. Grazie.